Ciao a tutti ragazzi qua Dexta, oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online con nuove care stante, oggi abbiamo un total wipeout abbastanza ragazzi particolare, perchè qui c'è soltanto un checkpoint, cioè praticamente ci sarà quello che adesso prenderemo e poi direttamente il traguardo e dovremo superare tutto un percorso, quello intanto è morto, ci sarà tutto un percorso ragazzi e praticamente se cadi perdi tutto e devi ricominciare da capo, quindi sarà abbastanza scleroso come wipeout poi non so se ne giocheremo anche qualche altro, allora andiamo qui con calma perfetto, ci sono le onde, vai questa parte è andata, andiamo adesso qui, cioè praticamente cadendo ragazzi uno si deve rifare tutto ed è veramente una cosa pesante comunque andiamo qui, ok perfetto, ora ci sono le palle vai 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 vai, superiamo le palle, superiamo le palle ok, palle da bullying superate, andiamo adesso qui ragazzi per queste altre rampe vai, ok perfettissimo, ora da questa parte, prendiamo un attimo, perfetto ragazzi e qui? qui non lo so, vabbè andiamo, vai vai vai, ok rallentamento ah dobbiamo andare a sinistra, è giusto? si ragazzi è giusto, no fosse stato per me sarei andato dritto per la rampa, sono sincero, fosse stato per me ragazzi sarei andato dritto, adesso però mi sa che dobbiamo veramente andare vabbè io ci provo, facciamo il media a questo e si parte vai 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 vai, rimani 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 ok ci sono ragazzi, ci sono quello è arrivato pure, perfetto, non uccidermi e adesso dobbiamo scendere giù si si ok, tutto tranquillo piano, mamma mia questa parte è stata bruttissima andiamo qui ok perfetto, sempre piano ora abbiamo, non so, dei galleggianti oh mamma mia guardate le onde ragazzi c'è uno spazio vai ora vai ora ok ok ok, calma calma, oh mamma mia allora adesso devo aspettare il momento giusto perché qui ragazzi vedete i galleggianti si spostano vai ora, oh vai ci sono, ci sono, ci sono perfetto, perfetto cioè se cado devo rifarmi tutto non so se non so se riuscite a capire la situazione ora come faccio? devo fare tipo un voleride nel tubo? questo qui mi preoccupa tantissimo questo qui ragazzi mi preoccupa veramente tanto quello ce l'ha fatta ce la fa? si si ragazzi allora ci provo anch'io vai 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 vabbè non era così complicata la cosa però la paura ovviamente è quella di andare giù in acqua facciamo di nuovo il medio a lui e qui ci sono tutti gli ostacoli va bene va bene li supererò senza problemi almeno spero andiamo piano qui ok qui ci sono ora andiamo da quest'altra parte no alla fine la gara è veramente bellissima solo che rispetto il solito l'affronti in maniera diversa perché pensi che se cadi devi rifarti tutto quindi c'è ogni ogni accelerazione ragazzi è calcolata allora andiamo avanti qui superiamo questi ostacoli piano 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 vai ora aspettiamo non voglio correre ok ultimo ostacolo e ora ragazzi c'è tipo un super wall ride e poi mi sa che si arriva al traguardo vabbè andiamo andiamo vai ci provo calma qui andiamo sali oh 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 mamma mia qui la moto veramente muore andiamo intanto mi viene di girare la testa però vai ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta allora adesso abbiamo queste ruote e dopodiché ragazzi credo il traguardo non devo rimanerci fregato qui vai in penna in penna ok perfetto in penna ancora e adesso calma attenzione mamma mia questa zona è bruttissima ragazzi se uno sbaglia finisce fuori nel giro di poco e qui no no qui non mi convince allora questa zona ragazzi non mi convince andiamo da questa parte ok ci sono di nuovo di nuovo vai perfettissimo datemi il traguardo adesso no cosa c'è ora un altro percorso no pensavo ci fosse il traguardo invece no allora andiamo piano piano perfetto ok ragazzi qui ci sono niente vabbè comunque dovremmo essere veramente vicini credo al traguardo cioè ormai abbiamo fatto tantissimo no ragazzi non riesco a non pensare al fatto che se cado cioè probabilmente conviene conviene abbandonare allora qui cosa oh mamma mia c'era un buco lì che non avevo visto allora sono entrato in questo piccolo tunnel e c'è il traguardo dimmi di sì piano alla palla che mi fa morire prima posizione ragazzi ce l'ho fatta senza sbagliare nulla al primo tentativo cioè all'inizio all'inizio proprio ero caduto però poi quando ho iniziato realmente il percorso non sono mai caduto e gara veramente bella però veramente ragazzi non so veniva l'ansia perché soprattutto all'ultimo se cadevi dovevi ricominciare da zero quindi veramente particolare e adesso ne andremo a rifare un'altra così e riccoci qui questa volta ho preso la bati ragazzi versione sprank abbiamo un'altra gara praticamente come quella di prima quindi diversa ma alla fine è lo stesso c'è soltanto il traguardo qui addirittura allora vai partiamo perfetto perfetto vai questa zona non è troll non è troll quest'altra invece si va bene dovevo prendere la barriera poi mi sembrava un po' un po' tutto troppo troppo semplice dall'inizio piano andiamo qui mamma mia quello l'hanno fatto proprio volare andiamo 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 ok ragazzi con calma con calma con calma perfetto questa parte è andata e ora cosa c'è qui devo andare piano perché ovviamente poi non si ricompare cioè per meglio dire ricompari però all'inizio quindi devo rimanere anche qui ragazzi super concentrato e vediamo vediamo ah qui abbiamo un salto da fare via 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 si torna indietro si torna indietro ragazzi abbiamo un gran bel salto da fare vai voliamo un po' ok qui ci sono qui ci sono adesso rientriamo perfetto piano piano ok ragazzi qui c'è il turbo ma io sinceramente non lo voglio non voglio rischiare di morire col turbo quindi rimango qui tranquillo anche se quello mi ha superato cosa c'è adesso va bene c'è un salto c'è un salto forse potevo prendere il turbo però logicamente non voglio rischiare allora aspettiamo un attimo torno torno indietro qui e mi prenderò poi abbastanza turbo vai vai andiamo ora andiamo ora ok perfetto ragazzi qui ci sono arrivato piano non morire perfetto ora devo prendere quest'altro percorso e quel giocatore purtroppo si è allontanato ma lo riprenderò ragazzi adesso vado un po' più veloce cerco di fare tutto un po' prima e magari oh non mi dire no vabbè non li avevo viste ragazzi le barriere erano sott'acqua quando ero lì e poi si sono alzate e vabbè niente impressionante impressionante qui adesso c'è il salto vai ci sono arrivato calma qui andiamo sempre un po' leggermente ragazzi piano altrimenti prendo scaffe cose non buone aspettiamo un attimo adesso gli ostacoli vai 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 andiamo 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 perfetto qui ci sono freno un po' ok impegniamo ora niente purtroppo sono rimasto fregato e pensate cadere più volte in gare del genere cioè veramente si finisce per impazzire il primo ha concluso ragazzi evidentemente non ha sbagliato nulla e vabbè mi è andata bene la prima mi è andata bene la prima gara la prima si la seconda invece adesso non so manco se la concludo ragazzi niente qui sono andato giù va bene va bene va bene allora ci riprovo ci riprovo tanto alla fine prima o poi ce la farò senza essere colpito magari dagli altri prima o poi ragazzi riuscirò comunque sia a farcela in penna mamma mia quest'acqua le onde sono vedete il problema prima ho superato quelle barriere che erano problematiche ma come se non bastasse poi alla fine ci sono le onde allora piano qui vai superiamo queste zone calma 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 perfetto ora posso correre un po' va bene adesso continuiamo ad andare avanti niente sono in oh vabbè non è possibile non è possibile a questo punto cioè a questo punto se cado con queste cose avete visto la moto è volata via per per non so che cosa un pezzo un pezzettino ragazzi di spessore in più cose inspiegabili allora andiamo dai vai qui con calma ok allora questa parte iniziale è andata il salto si fa senza problemi ora qui adesso vado piano perché succedono le cose impensabili piano 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 ok perfetto vai ora col turbo ok qui ci sono giriamo la moto perfetto perfetto allora questo è il punto ragazzi praticamente problematico dove io cado adesso qui avanti perché ci sono le barriere ma ci sono pure le onde quindi devo su oh oh vai indietro indietro non buttarti non buttarti vai 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 passa 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 al laterale ok ci sono ci sono le onde non mi hanno fregato allora adesso abbiamo va bene qui una barriera vai con calma mi raccomando bati non facciamo scherzi ci sono gli ostacoli da superare vai ok il primo ragazzi è andato con calma con calma perché tanto ormai ormai non mi interessa più di andare veloce perché tanto ho capito che che qui ci resto fregato quindi devi andare con calma e basta mettersi il cuore in pace praticamente vai ok ci sono piano 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 qui dai che c'è l'ultimo ostacolo l'ultimo e andiamo andiamo allora adesso abbiamo tutti questi qui che si muovono ok abbastanza particolari direi e andiamo adesso vai superiamoli ok nella rampa ci sono ora cosa c'è una zona più o meno come quella di prima piano 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 vai 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 perfetto qui ora abbiamo barriere colorate ragazzi saltellanti si si sono tipo saltellanti ok con calma con calma dai che sicuramente siamo vicini alla fine perché comunque il primo prima aveva concluso ragazzi davvero in poco tempo quindi penso che ormai mamma mia mamma mia non facciamo scherzi non ti piegare in modi strani ok qui ci sono ragazzi il traguardo è lì il traguardo è lì quindi siamo vicinissimi oh c'è l'acqua mamma mia mamma mia quest'acqua le onde veramente non potete capire l'odio che ho su gta per l'acqua e le onde allora andiamo un attimo indietro perché non mi sento sicuro e qui io devo andare nella piattaforma andiamo provo ora provo ora ok ci sono adesso qui c'è uno spazietto aperto andiamo anche qui perfetto perfetto allora c'è tutto il turbo e non mi piace questa cosa c'è tutto il turbo e sinceramente non mi piace vai vai andiamo lateralmente con calma con calma poi ragazzi dipende cosa c'è dopo riprenderò il turbo frena 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 piano qui piano 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 ragazzi lì c'è tipo il rallentamento quindi il turbo era tipo inutile forse per farti morire non ho idea allora va bene c'è una barriera adesso piano vai qui oh mamma mia vabbè se cado forse non è un gran problema se cado a destra comunque rimaniamo qui dietro qualcuno no ragazzi dietro non c'è nessuno gli altri giocatori sono lontani ci sono altri che praticamente sono all'inizio lo vedo dal radar comunque vai superiamo quest'ultima zona perché ormai sinceramente voglio il traguardo sinceramente ragazzi mi sento già abbastanza trollato da varie cose che sono successe in questa gara quindi voglio voglio il traguardo allora ok qui ci siamo e il traguardo mi sa che è qui vai prendiamo tutto e concludiamo quinta posizione questa seconda gara ragazzi sinceramente è stata forse meno complicata però per qualche motivo insomma sono rimasto fregato più volte comunque sia la prima l'ho conclusa in prima posizione e la seconda poi ragazzi in quinta e qui come vedete ci sono persone che ancora sono all'inizio ci sono giocatori ragazzi completamente all'inizio che ormai ci stanno provando completamente a caso mancano pochissimi secondi alla fine ragazzi spero che il video vi sia piaciuto abbiamo giocato due gare total wipeout dove se cadi dovevi ricominciare da zero è abbastanza intense qui è dexta lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao